Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta nutella e pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono biscotti tipo pandistelle, farina di cocco, latte, nutella e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 6. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la nutella. La farina di cocco. Ed il latte. Ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 3. Trasferire il composto in uno stampo da 20 centimetri. Livellare bene. Riporre in frigo per almeno 3-4 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la torta dal frigo, sformarla e decorare con nutella e granella di nocciole. Torta nutella e pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!